Sbarchi e arrivi sono diminuiti ma il tema dei migranti non deve passare in secondo piano. A sollecitare una riflessione alla società e alle istituzioni a questo proposito è la Caritas Ambrosiana. Sono oltre 2.300 i richiedenti asilo accolti sul territorio nella rete di alloggi promossa all'interno della diocesi di Milano. Nella zona pastorale di Lecco le 36 strutture presenti in 12 parrocchie stanno ospitando 365 richiedenti asilo, quasi un terzo del totale presente nella nostra provincia. Alla luce di questi numeri la Caritas ha promosso un momento di confronto anche per lanciare una serie di richieste alle istituzioni su questo tema. Basta strumentalizzazioni politiche, dichiara Luciano Gualzetti, lecchese direttore di Caritas Ambrosiana. Non ci si dimentichi dei richiedenti asilo che sono stati accolti e che fuori dai centri finiscono per strada senza una reale prospettiva di futuro. Nell'ultimo anno c'è stata una riduzione del 35% degli sbarchi e questo ha provocato anche un calo delle richieste dei posti per le accoglienze da parte delle prefetture. Tuttavia oggi nelle nostre parrocchie abbiamo ancora oltre 2.300 persone, conclude Gualzetti, alle quali bisogna garantire condizioni di vita dignitose per una convivenza serena nella nostra comunità. Tra le richieste che la Caritas Ambrosiana sottopone alle istituzioni ci sono la riforma del sistema di asilo, il rispetto dei diritti dei migranti e dei rifugiati, l'apertura di corridoi umanitari per garantire canali sicuri di ingresso a quanti hanno diritto all'asilo, la promozione di un sistema di accoglienza diffusa sul territorio che eviti concentrazioni di migranti, la riforma della legge sull'immigrazione bossi-fini e l'introduzione dello USOLI, quale criterio per concedere la cittadinanza italiana ai figli degli stranieri nati in Italia.